Buongiorno, in questa giornata, ennesima giornata passata in casa, vi leggo, sperando che vi possano piacere, quattro poesie di Cavafis, Costandinos Cavafis, che io leggo da questa raccolta, Poesia d'amore, della Passigli Editore, Passigli Poesia, un libro che è uscito un po' di tempo, ma è abbastanza tempo fa, e non vi piace. Fermarmi qui, per guardare anch'io un po' con la natura, il luminoso azzurro del mare mattutino, e del cielo senza nuvole, con la riva gialla, tutto è bello nell'effusa luminosità. Fermarmi qui e illudermi di vedere quello che vedi davvero nell'attimo di sosta, e non le mie fantasticherie, anche qui, non le mie memorie, non le visioni della voluta. Disse Mirta, studente siriano ad Alessandria, sotto il regno di Costante Augusto e di Costanzo Augusto, mezzo pagano e mezzo cristiano. «Fortificato dallo studio e dalla meditazione, non avrò timore per viltà delle mie passioni. Ai piaceri darò il mio corpo, ai godimenti fantasticati, ai più temerari desideri d'amore, agli ardori sensuali del mio sangue, senza alcun timore. Perché quando vorrò, non mi mancherà la volontà, fortificato dallo studio e dalla meditazione, saprò ritrovare, nei momenti critici, il mio spirito d'ascetta di prima». Ritorna spesso e prendimi. Amata sensazione, ritorna e prendimi. Quando si ridesta la memoria del corpo e l'antico desiderio di nuovo si versa nel sangue, quando le labbra e la pelle ricordano e le mani come se ancora toccassero. Ritorna spesso e prendimi la notte, quando le labbra e la pelle ricordano. non vogli lacci. Andai senza riguardi ai piaceri, quelli reali e quelli che turbinavano della mia mente. Andai senza riguardi ai piaceri, quelli reali e quelli che turbinavano della mia mente. Andai la notte lucente e mi dissetai con i vidi più vagliardi, quelli che bevano gli arditi del piacere. Grazie.